3.0 storie digitali alla radio 12 e 11 minuti eccoci di ritorno in diretta come annunciavamo con i nostri primi ospiti qui a 3.0 storie digitali alla radio andrea lamura il nostro regista volevo dire stamattina non c'è il nostro co-conduttore e l'ho barattato con due giovanissimi che messi insieme fanno l'età del mio co-conduttore Giuseppe Amendola che al solito è in studio con noi oggi assente e giustificato comunque questa piccola premessa per introdurre i nostri ospiti che sono Giovanni Baldini buongiorno benvenuto e Giovanni Cresta buongiorno benvenuto per parlare di quello che annunciavo prima nel piccolo cappello che abbiamo fatto all'inizio della puntata di questo Festival dei Giovani il Festival dei Giovani peraltro se volete cominciare a documentarvi potete farlo andando sul loro sito che è www.festivaldeigiovani.it per parlare di questo appuntamento che si terrà a breve a Gaeta dal 4 al 7 di aprile che radunerà giovani ragazzi della scuola superiore da tutta Italia per parlare di un tema che da queste parti c'è molto caro cioè di talenti, di possibilità di costruirsi un futuro, un mestiere, un lavoro partendo proprio dalle capacità, quindi quando noi parliamo di talenti non è che parliamo necessariamente di geni ma di persone che hanno gli strumenti per mettere a frutto le proprie capacità e convertirle in un tema che appunto da queste parti è particolarmente sentito, ossia il lavoro comincerei proprio da Giovanni Baldini che è tra gli organizzatori di questo Festival a darci qualche dettaglio in più intanto quanti ragazzi arriveranno a Gaeta? Allora, per quest'anno abbiamo previsto che durante le quattro giornate del Festival le presenze saranno all'incirca tra le 15.000 e le 20.000 presenze in quattro giorni i ragazzi, come hai detto tu precedentemente, verranno da tutta Italia e il significato del Festival è proprio quello che tu stavi esponendo cioè girando per le scuole, facendo degli incontri, conoscendo tanti ragazzi si percepisce questa grandissima voglia di fare da parte dei ragazzi hanno tante passioni, tanta voglia, ma spesso si sentono ripetere sempre le stesse frasi quindi lascia perdere che è meglio, non fa per te, ma con quello non ci lavori e noi con questo Festival e con i nostri progetti cerchiamo proprio di dare una risposta a queste domande e dirgli no ragazzi, non è così fate quello che vi piace perché prima o poi la vostra passione verrà ripagata C'è da dire che molto spesso le persone che tendono a scoraggiare questi giovanissimi sono persone che hanno affrontato una carriera lavorativa e può darsi anche che siano state sbalzate fuori dal mondo del lavoro insomma genitori che quindi sono piuttosto disaffezionati al lavoro e voi invece all'interno di questo appuntamento che continueremo a approfondire durante la diretta raccontate delle possibilità che possono venire dal mondo del lavoro anche grazie al concetto di autoimprenditorialità Comunque siccome noi siamo al telefono proprio con l'ideatrice del Festival dei Giovani, Fulvia Guazzone la salutiamo, buongiorno, benvenuta Buongiorno a voi Insomma un festival che dicevamo è arrivato alla seconda edizione che già nella prima edizione ha goduto di un certo successo sono arrivati a migliaia da tutta Italia e si sono messi, questo è il concetto, quello che ci è piaciuto di questo festival e abbiamo deciso poi di segnalarlo qua alla radio si sono messi concretamente a lavorare sul loro futuro e in che maniera? Allora innanzitutto devo precisare che questo festival nasce su una precisa richiesta dei ragazzi che hanno chiesto un luogo in cui poter essere ascoltati quindi partiamo già da una premessa che fa capire lo spirito loro hanno contestato le definizioni che spesso vengono date di loro e hanno chiesto di potersi raccontare e chiaramente poi questo avviene in tutti i campi quindi il campo del lavoro e dell'imprenditoria per esempio dei giovanissimi start-up che raccontano come ce l'hanno fatta a lanciare la loro idea anche se più volte ci sono sentiti dire lasciate vedere che meglio ci saranno musicisti, ci saranno sportivi ci saranno delle persone che hanno costruito delle professioni delle professionalità anche nell'ambito dell'integrazione per esempio la figura del mediatore culturale sarà una nuova professione, sarà la professione del futuro ci saranno ricercatori tutti giovanissimi che si raccontano ad altri giovani per dire guardate che ci sono queste opportunità guardate che noi ce l'abbiamo fatta quindi non fatevi scoraggiare perché bisogna crederci chiaramente si devono preparare, devono studiare e devono anche imparare un po' a confrontarsi a mettersi in rete tra di loro ed è questo l'obiettivo del Festival dei Giovani quindi Guazzone voi avete sicuramente intercettato un bisogno che è quello dei ragazzi anche di dare di sé un'immagine differente da quella che purtroppo in maniera un po' standardizzata molto spesso i media ci trasmettono però di incidere diciamo sul loro futuro dandogli degli strumenti ecco perché prima parlavo di concretezza perché attraverso i laboratori lei parlava della mediazione culturale che sicuramente sarà un'occasione di lavoro per chi si prepara nel futuro però dicevamo in questo programma 3.0 Storie digitali alla radio come da qui a qualche anno l'abbiamo raccontato tante volte durante la diretta ci saranno tante professioni che rischiano di non poter essere ricoperte da personale giovane perché oggi non ci si sta preparando per quel tipo di mondo del lavoro su questo voi volete incidere in qualche maniera insomma dare una strada un'occasione, uno strumento ai ragazzi per dire ci sono queste possibilità sfruttatele assolutamente sì e in due modi innanzitutto raccontando loro come si sta evolvendo il mercato del lavoro è un dato di fatto che ci sia uno scollamento totale tra la richiesta delle industrie italiane e la preparazione a cui arrivano i giovani non c'è lavoro non c'è tantissimo lavoro a volte c'è un momento di crisi forse però ci sono anche tantissime aziende che cercano professioni se non li trovano quindi dobbiamo sempre tenere presente questo dato e poi facendoli facendo emergere o comunque invogliandoli a maturare tutta una serie di soft skills di competenze trasversali che possono diventare umani una vera e propria professione se la approfondiscono o comunque un valore aggiunto nella professione che andranno a fare mi spiego ormai la capacità di un personal branding di stare sui social in modo efficace è una competenza che dobbiamo avere tutti indipendentemente da coloro che saranno poi professionisti del web e del social assolutamente sì tutti i temi che voi affronterete in questi giorni a Gaeta la lasciamo al suo lavoro perché insomma sappiamo che è presa dai preparativi comunque le auguriamo davvero buon lavoro poi magari ci sarà occasione di tornare a sentirci una volta che l'appuntamento di Gaeta sarà concluso intanto buona giornata grazie e vi invito a Gaeta ovviamente grazie grazie noi dicevamo prima insomma per chi volesse informarsi che c'è il sito dedicato che si raggiunge con www.festivaldeigiovani.it tornando in studio qui con i nostri ospiti volevo affrontare anche proprio il tema dell'organizzazione perché è un'organizzazione che come avete capito ha bisogno di braccia e menti perché arriveranno da tutta Italia migliaia di ragazzi intorno ai 4.000 se ho capito bene chiedo conferma a Baldini in alternanza scuola-lavoro sì è così e molti altri che si uniranno per arrivare a 10.000 partecipanti sì anche di più contributo all'organizzazione di questo evento lo sta dando anche Giovanni Cresta che dal suo punto di vista insomma lui è uno studente della LUIS studia scienze politiche e ha deciso di rendersi disponibile perché? che cosa ti ha colpito del festival? già l'anno scorso ero venuta a conoscenza di questa iniziativa anche se da lontano forse quest'anno mi è stato proposto all'interno del contesto delle associazioni dell'università una partecipazione effettiva appunto come volontario per lo staff del festival e quindi ho approfondito un attimo quello che era il contesto e il focus mi è piaciuto moltissimo perché come ritrovo tutt'oggi in università diversi corsi sono orientati verso l'innovazione verso il personal branding quindi come diceva prima la dottoressa è qualcosa di fondamentale e quindi trovandomi a disponibilità di questi giorni non ho esitato un attimo dalla mia disponibilità coinvolgendo a mia volta altri miei colleghi che sicuramente avranno piacere spero di altri colleghi di università che avranno piacere insomma contribuire a questo evento che peraltro crea un collegamento non solo col mondo del lavoro ma anche tra gli studenti universitari e i giovanissimi perché lo dicevamo invitati sono tra i 16 e i 19 anni quindi i ragazzi che stanno concludendo il loro percorso alla scuola superiore al liceo e che sono prossimi a introdursi o nel mondo del lavoro oppure a continuare con l'università Giovanni Baldini abbiamo parlato almeno in due occasioni del concetto di personal branding che per chi frequenta il mondo digitale ormai è abbastanza pane quotidiano però nelle tue incursioni nel mondo della scuola che poi appunto oltre a collaborare all'organizzazione del festival fattivamente entri nelle classi e racconti delle opportunità che il mondo del lavoro offre ci dicevi prima fuori onda come i giovanissimi i millennials i nativi digitali in fondo non conoscano non lo strumento che praticano da sempre ma le opportunità collegate con la rete esattamente sono le potenzialità che sottovalutano di quello che fanno loro quotidianamente sui social loro non spesso entrando nelle scuole io faccio sempre questa domanda chiedo se qualcuno di loro sappia cosa faccia il social media manager all'interno di un'azienda ad esempio e con mia grandissima sorpresa spesso scopro che la maggior parte dei ragazzi non sa proprio di cosa stiamo parlando mentre loro lo fanno quotidianamente il che significa che utilizzano i social network come strumento di intrattenimento e basta esattamente è quello che loro non capiscono che scrivere un post efficace su facebook prendere centinaia di mi piace può essere trasformato in qualcosa di più di uno svago pomeridiano proprio perché grazie anche alla mia esperienza oltro oceano diciamo così c'è tutta una serie di figure professionali che si sta aprendo creiamo un piccolo inciso perché altrimenti l'esperienza oltro oceano rischiamo di non far capire a chi ci ascolta nel senso tutti si è laureato alla LUIS esattamente sono laureato in relazioni internazionali dopodiché ho scelto di fare un'esperienza lavorativa all'estero sono andato in Canada precisamente a Montreal l'ho vissuto lì per circa sette mesi e ho fatto una cosa totalmente diversa dal mio percorso di laurea perché ho fatto il tester di videogiochi è stata un'esperienza formativa anche perché mi ha aperto la mente mi ha aperto lo sguardo su un altro modo di vedere il mondo del lavoro soprattutto ed è quello che cerco di trasmettere ai ragazzi che parteciperanno al festival quando faccio i miei incontri nelle scuole proprio cercare di capire che c'è tutta una serie di nuove professioni che sono collegate a quello che loro fanno quotidianamente con il cellulare con il computer quindi con i social network che come dicevi tu prima fra cinque anni ce ne sarà bisogno ma i ragazzi non saranno pronti noi su questo con il festival cerchiamo di intervenire per far capire ai ragazzi che il personal branding il social media management e tutta questa serie di nuove professioni sono delle occasioni importanti però bisogna appunto come diceva studiare e prepararsi sorridevo mentre parlavi perché mi veniva in mente il film di Checo Zalone Quovado in cui questo bambino piccolissimo mentre lui ripercorre la propria storia dice che vuoi fare da grande il posto fisso ecco l'immagine che viene fuori da questi nativi digitali e che hanno gli strumenti però che rischiano di fossilizzarsi sul concetto del posto fisso esattamente per carità insomma buon per loro qualora lo riescano ad ottenere però non è detto che poi la felicità e la soddisfazione e la realizzazione personale passano solo attraverso quei canali standardizzati veniamo un po' ai contenuti di questo appuntamento insomma abbiamo parlato della mediazione culturale del self branding però uno dei concetti cardine del festival ma più in generale è l'idea della autoimprenditorialità quindi in questo c'entra il progetto la tua idea di impresa in che consiste di che si tratta? esattamente è un progetto che portiamo avanti da circa otto anni e da quest'anno si è trasformato anche in un percorso di alternanza scuola lavoro è un progetto educational di confindustria dove i ragazzi chiediamo ai ragazzi di sviluppare una propria idea di business quindi chiediamo agli studenti delle scuole superiori di mettersi alla prova stilare un vero e proprio business plan quindi cercare di capire qual è il mercato che andranno ad attaccare e quali sono i fondi di cui avranno bisogno per creare la propria idea di business e poi chiediamo loro di realizzare anche un video spot della loro idea proprio perché è molto importante saper valorizzare il proprio marchio e la propria persona e grazie a questo negli anni abbiamo coinvolto migliaia di studenti tra l'altro parteciperanno anche al festival dei giovani quest'anno e sono molto felici di fare questo perché si rendono conto attraverso un gioco perché comunque è quello è un piccolo inizio è un'infarinatura di base al mondo delle start-up e riescono a capire e a concepire il fatto che anche con una propria idea di business si possa fare qualcosa nel futuro e quindi torniamo al discorso che non è solo il posto fisso ma ci sono tantissime altre opportunità che il mondo di oggi così globalizzato ci offre ecco delle opportunità peraltro volevo chiedere invece a Giovanni Cresta che consiglio si sentirebbe di dare ad un giovane che sta concludendo il proprio percorso di studi insomma della scuola superiore volesse entrare all'università ma anche no nell'approccio a questo festival cioè che cosa può trovarci dentro di utile ma penso che la prima cosa sia lasciarsi coinvolgere e non essere diciamo vittima di certi pregiudizi sul quali siano magari le opportunità di lavoro più classiche o più indicate che spesso magari possono essere proposte a volte dai professori o a volte dai genitori un'idea di base la si può avere ma sicuramente va sviluppata nel corso della propria esperienza in questo festival sicuramente ci sarà opportunità di approfondire delle posizioni lavorative che non si concepiscono neanche come si pensava prima al social media manager che diceva prima appunto Giovanni sia una figura che sia fortemente caratteristica dei millennials ma poco conosciuta forse certo e poi diciamo che il tema dell'innovazione è abbastanza trasversale perché di questo si parla anche in tematiche che possono apparentemente sembrare più distanti e che poi tratterete come l'economia del mare l'agricoltura perché insomma la settimana scorsa avevamo qua 3.0 proprio una piattaforma che si occupa di gas insomma di gruppi d'acquisto solidale e che parte ovviamente da una concezione di lavoro che venga ben pagato di prodotti che siano appetibili e appunto prodotti in maniera corretta però al tempo stesso lo strumento digitale è poi il volano ciò che gli ha permesso di diffondersi in tutta Italia ma anche nel resto d'Europa e poi un tema importante che abbiamo accennato anche durante la diretta è proprio quello legato all'orientamento perché appunto i ragazzi lì potranno attraverso la presenza di tutor attraverso la presenza di persone del mondo dell'università e dell'impresa farsi un'idea su quello che potrebbe essere il loro percorso futuro abbiamo tralasciato finora di parlare invece di un sito che viaggia parallelamente insomma all'interno di questa grande realtà che è quella del festival dei giovani ossia la testata noi siamo futuro perché anche lì contribuiscono molti ragazzi in alternanza scuola-lavoro in che maniera fanno i giornalisti fanno i giornalisti però lo fanno in maniera diciamo una espressione un po' abusata ultimamente 2.0 fondamentalmente perché perché noi cerchiamo di occhio che qua già siamo a 3.0 arrivato nel 4.0 quindi rischiamo di essere vintage cogliamo la loro attitudine social quindi a comunicare sui social e sui nuovi mezzi di comunicazione e la loro attitudine soprattutto a lavorare in gruppo perché che se ne dica i ragazzi comunque lavorano molto bene in gruppo e sono felici quando lavorano in gruppo noi cerchiamo di cogliere queste loro attitudini e trasformarli dandoli delle basi di infarinatura sulla comunicazione 2.0 sul nuovo modo di fare giornalismo e incanalandoli in questa piattaforma che si chiama Noi siamo futuro social journal è una testata a tutti gli effetti sono più di 2.500 i ragazzi che abbiamo coinvolto in questo progetto e sono i veri e propri redattori redattori da remoto nel senso che attraverso le loro scuole con prima ce lo raccontava Furion insomma con dei professori che fanno da referenti all'interno di questo progetto producono dei contenuti di vario genere multimediali spesso che vengono poi caricati di volta in volta su commissione del direttore del direttore del giornale perché è una testata a tutti gli effetti e tra l'altro la cosa interessante è che loro durante il festival faranno proprio i reporter quindi andranno a comporre tutta la rassegna stampa del festival quindi faranno un'esperienza on the job andando a intervistare i relatori gli altri ragazzi descrivendo l'atmosfera del festival certo tutti i materiali che presumibilmente poi al termine di questo festival noi vedremo caricati o forse anche durante sulla piattaforma che ricordiamo prima di salutarci ancora una volta è www.festivaldeigiovani.it grazie quindi a Giovanni Baldini per essere stato con noi a Giovanni Cresta per averci raggiunti qui a Radio Città Futura vi lasciamo perché a breve insomma nei prossimi giorni sicuramente sarete in partenza per Gaeta buona giornata buongiorno 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 Grazie a tutti